Sì, oggi è stata una bella giornata, abbiamo visto come questo Consiglio sia unito nel vedere, nel verificare e nel perseguire questo obiettivo del Comune Unico. Questo ci dà grande forza perché, come dico sempre io, l'obiettivo Comune Unico non è dei due Comuni ma è di tutti. Quindi oggi abbiamo fatto, abbiamo trappreso questo percorso che ci porterà appunto fra un anno a andare verso il Comune Unico. Io spero che alla fine il risultato si ottenga, se ne sono sicuro, perché solo così possiamo ottemperare a quello che è destino del Comune, è quello di programmare e dare servizi per la cittadinanza. Solo così lo possiamo fare. Oggi abbiamo messo, diciamo, un primo mattone per unificazione.